La nostra proposta Tra gli uomini e gli extraterrestri e in questo incerto orizzonte si muovono storie sospese nell'attesa di essere ascoltate. La narrazione procede rapida e leggera come un sogno e incalza nella sua essenzialità rincorrendo i battiti alterati da emozioni inattese e temute. Racconti dal buio è il libro di Fabrizio Serra, edito una traduzione dal gruppo Albatros e questa è la nostra proposta. Grazie a tutti.